Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Un cuore in festa, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Un uomo saggio cerca nella saggezza la sua riuscita, la sua dolce acclamazione, la sua vera fortezza e ricerca nei suoi doni la forza vitale per andare avanti. Quindi un uomo sapiente sa ricavare giustizia e offrirlo allo stesso tempo in una maniera forte e decisa. E per lui il motivo di letizia, questa saggezza che si ritrova ad avere, è appunto questo cuore in festa e il risultato di questa cosa. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Un cuore in festa. Un uomo saggio cerca nella saggezza il giusto miraggio che gli doni fortezza. Un uomo sapiente sa offrire giustizia e in maniera gioviale sa donare letizia. Il mondo ha bisogno di cuori in festa. Il mondo cerca per davvero la bontà e la sua usanza. Un cuore in festa e colmo di splendore sa ricercare vita santa unita al lieto ardore. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.